Il cambio del nome ci ha presi alla sprovvista, non ci aspettavamo, anche se sarà temporaneo, perché poi quando Banca Entruria a novembre entrerà, si fonderà con UBI, anche questo nome sparirà. La cosa grave è che questa mattina abbiamo letto anticipazioni sul piano industriale da parte di UBI che parlerebbero addirittura di più di 1.500 suberi delle tre banche ex ponte. Da Etruria a Tirrenica e così con un colpo di spugna si cancellano 125 anni di storia, non senza lasciare importanti libidi nella città di Arezzo. Le notizie sul destino di quella che era ormai diventata nuova Banca Etruria si rincorrono di ora in ora. Dopo il closing che ha definitivamente sancito l'acquisto da parte di UBI è arrivato intanto il cambio del nome, la banca si chiamerà Banca Tirrenica S.P.A. La sede legale si sposterà a Bergamo e la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. Il presidente del CDA è Osvaldo Ranica, l'amministratore delegato Silvano Manella e Maria Pierdicchi resta come consigliere. Ed infine, ma non per importanza, la notizia anticipata dal Corriere della Sera di possibili esuberi circa 1.500 persone. Sì, siamo preoccupati e siamo molto tessi. Ovviamente la Fabi non si fascia la testa prima di rompersela. Siamo abituati a gestire piani esuberi, fondi esuberi in tutto il livello nazionale. A livello nazionale ci saranno nei prossimi anni 25.000 esuberi, quindi siamo dentro questo contesto. Ora vogliamo vedere le carte, vogliamo vedere di cosa si tratta, vogliamo vedere che tipo di prepensionamenti UBI proporrà, se ha 5 o 7 anni, quanti soldi ci metterà e ovviamente si deve parlare solo di prepensionamenti volontari qualora ci fosse l'esigenza. Si tira un sospiro di col sollievo, però possiamo dire una calda e una fredda. Lo avremmo tirato completamente per la notizia di ieri della chiusura dell'operazione, dopo 18 mesi di lunga quaresima. Ovviamente le cause giudiziarie contro alcuni colleghi per la vendita delle subordinate e ora il discorso degli esuberi purtroppo lascia una coda amara. Le controquerele che stanno facendo i dipendenti rappresentati dal sindacato Fers Cisl sono basate non tanto sulla calunnia e la diffamazione ma sul fatto che riconoscono che i MIFID così alterati come viene dichiarato appunto dalle querele fatte dai risparmiatori erano già stati compilati da altri colleghi, quindi di fatto scaricano semplicemente la responsabilità su altri colleghi e qui la vittima e il fregato rimane sempre il risparmiatore.